Salve a tutti ragazzi, sono Mr.Dellerick, sono qui per invitarvi molto velocemente alla live su Twitch che farò giovedì 21, ore 21 e 30 circa, ok? Quindi sul canale di Twitch che trovate in descrizione, trovate in descrizione il link. Spero vogliate partecipare perché inauguro il canale di Twitch, poi ovviamente esporterò il video qua comunque anche su YouTube, però ovviamente per la live, se volete proprio essere in stream, dovete assolutamente collegarvi al sito. Cos'altro dire ragazzi? Ci vediamo molto presto, guardate che è solo il primo di molti altri, per cui mi raccomando, ci conto, a presto, state in campana, ciao ciao!